Oggi, ma che mappa ne è? Che fanno? Ma veramente, Donny, ma secondo me... Se ci siamo a farcire un colpo Ah, paremmo proprio Ma è madre Ah, c'è Eh, Giamma, quale è quel problema? Oh, allora, dai, ammatteremo un po' Eh, Giamma, c'è stato un po' Dai, non lo so, direi no Non lo so, direi no Non lo so acc Meta Gia lunch. Oh no Ok Ok Oh, that's good shit, man. Oh, that's good shit, man. Ciao, sono Danilo, ho detto il gioiellino, sono uno dei programisti di questo film, nonché il cameraman. Ciao, sono Antonio, attore, cameraman, registra e triggers di questo film. Mi sembra che è fatto un po' troppo.